Si terrà in tre giornate tra fine febbraio e inizio marzo il corso di alta formazione per il turismo sostenibile intitolato itinerari culturali, cammini e ciclovie per il turismo slow nel Gargano Sacro. Il corso si inserisce tra le attività del progetto Gargano Sacro, sostenuto dalla Regione Puglia, nell'ambito del bando Puglia Capitale Sociale 3.0 e coordinato da Lega Ambiente Festa Ambiente Sud. L'attività formativa è curata dalla Società Vivi d'Italia e oltre a lezioni di esperti su itinerari culturali, cammini e ciclovie, darà la possibilità di confrontarsi con esperienze concrete realizzate in altri territori italiani. Tre le giornate di formazione, articolate in una programmazione itinerante che tocca diverse località del Gargano, la prima a San Giovanni Rotondo, la seconda a Monte Sant'Angelo e l'ultima il 9 marzo a Vieste, il corso le cui attività si terranno in presenza si rivolge ai imprenditori e professionisti del settore turistico, amministratori locali, dipendenti pubblici, operatori culturali, guide ambientali e turistiche, associazioni di volontariato, educatori e quanti altri interessati a sviluppare l'attività turistica di qualità legata al territorio.